con un piattone quasi in diagonale bravissimo fa gol 1-0 attenti eccolo qui aspetta aspetta un momento non ancora lanciato ecco qui ecco qui prende l'ha preso ecco c'è il salmone che è stato preso è stato preso il salmone mentre viene fotografato anche il salmone pompilio il salmone pompilio è stato agganciato ecco vedete che in qualche modo la conizza il salmone ed è l'1-0 aspetta che ti aiuto a rimettere in piedi grande interpretazione di pompilio un salmone che non ci sono mai visto grande Juve 1-0 Juve a 6 punti